Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Cecilia Rodriguez ed il grande problema dentro casa sua. Ha mostrato tutto attraverso il suo profilo Instagram, non sa come fare Essere la sorella di un personaggio noto come Belen Rodriguez, può anche rappresentare un problema Soprattutto se il tasso di notorietà è talmente alto da non permetterti di assumere una forma ben distinta all'interno del mondo dello spettacolo È una storia vecchia quanto la televisione, ed si sono sempre avvicendate situazioni di questo tipo anche con i figli d'arte Un aspetto che ha dovuto vivere sulla propria pelle è anche la giovane Cecilia, sorella di Belen ma soprattutto giovane che ha dovuto sudare e non poco per scrollarsi di dosso proprio quell'etichetta sorella di Cecilia Rodriguez. Col tempo cececi è riuscita, anche perché ha avuto la possibilità di mostrare se stessa in contesti molto particolari, dove le è stata data anche l'occasione di mettere in gioco aspetti molti intimi del proprio carattere Modella argentina di successo, la giovane Rodriguez è entrata di diritto nel mondo dello spettacolo italiano sia perché sorella di Belen, ma anche per quella personalità che le ha permesso di sfondare fin da subito e di ritrovarsi al centro dell'attenzione mediatica La partecipazione ad alcuni reality show è stata di sicuro la chiave di volta necessaria, quella che permessa Cecilia di farsi conoscere da un pubblico che fino ad un certo punto aveva avuto il modo di approfondire la conoscenza soltanto di Belen Certo, Cecilia e sua sorella maggiore sono anche molto diverse sotto il punto di vista carattere Questo è un altro aspetto che le persone hanno imparato ad capire nel corso di questi anni Cecilia Rodriguez, il problema dentro casa, è colpa di... e così in questi anni abbiamo visto Cecilia anche al centro del gossip Anche se, va detto, da ormai qualche anno la modella argentina ha una situazione sentimentale abbastanza stabile La storia d'amore con Ignazio Moser, infatti, va assolutamente a gonfie vele e ci si aspetta da qui a breve qualche svolta importante che possa dare uno slancio alla loro storia d'amore L'arrivo di un figlio o magari un matrimonio, sono i due elementi sui quali il pubblico sta sperando maggiormente di poter vedere presto una svolta Stories di Cecilia Rodriguez.Nel frattempo, i due giovani hanno ben pensato di allargare la propria famiglia con l'arrivo di due cani, che hanno guadagnato l'amore di entrambi i giovani Eppure, ci sono anche dei problemi quando si decide di far entrare animali domestici dentro casa Ne sa qualcosa Cecilia, che si è ritrovata una situazione problematica, ma che probabilmente molti possessori di animali hanno affrontato La modella, infatti, ha dovuto tenere a bada i due cagnolini, che a stento le hanno permesso di andare in bagno Una pipì tranquilla, la posso fare? No? Le parole della Rodriguez Una realtà per tutti quelli che hanno cani in casa, ma un vero e proprio problema soprattutto quando si è da soli e non si sa come gestirle Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao